Grazie a alcune osservazioni che mi hanno fatto alcuni vostri colleghi, sottolineiamo ancora due aspetti. Nella teoria della comunicazione vi sono delle pagine intere dei tomi che riguardano le informazioni d'ingresso e d'uscita, quelle che gli informatici chiamano dall'inglese input e output. Il punto importante è che tutte e due queste informazioni hanno un processing alla base, non sono immediate, noi non siamo dei fiaschi di vino, delle bottiglie d'acqua, le riempiamo d'acqua e le usciamo dell'acqua. Non siamo dei tabula rasa come qualcuno nel passato aveva supposto, quindi non è che entrano delle informazioni ed escono esattamente come sono entrate. Alcune delle cose che ho detto in questi giorni entreranno nelle menti delle persone che sono ricettive e però verranno elaborate e interpretate a livello del proprio sistema cognitivo o di convinzione. Per cui quello che uscirà fuori poi può essere in parte condiviso ma in parte anche soggettivo, perché è chiaro. Quindi comunicazione vuol dire mettere insieme, quindi una comunicazione vera e propria vuol dire che c'è un canale di uscita, quindi un qualcosa, un condotto che raccoglie delle informazioni e le fa uscire. Quindi c'è un cosiddetto emittente, poi ci deve essere un ricevente, quindi un qualcuno che prende l'informazione e la condigio sine qua non perché la comunicazione si abbia è che... che ci sia... 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 questo è il grossissimo problema della nostra società occidentale attuale, che siamo assolutamente sommersi da notizie ma non abbiamo comunicazione. Cioè, quando lei urla per strada nel telefonino e litiga con il fidanzato, questa non è una comunicazione. Non comunica un accidente se non la propria rabbia, fa vedere che è arrabbiata gli altri, ma fa vedere, non lo comunica, non lo mette in comunione. Non mette in comunione un accidentaggio di niente. Quando io sento una notizia alla televisione senza alcun commento, e quello non è giornalismo, quella non è comunicazione. Cioè, se io sento che è successa una tragedia, sono morte... il vero giornalista è quello che me le commenta, ovvero lui che sente la notizia e mi scrive la sua opinione e a quel punto può diventare comunicazione, perché io posso pensarla come lui o non pensarla come lui, ma tengo conto della opinione. Eh sì, ma... Quello che mi scontro è in termini di gruppo, è che ogni sua volta che c'è un confronto, si ha questa pretesa di arrivare tutti quanti la stessa possibilità, cioè dobbiamo per forza condividere... No, dobbiamo per forza... Condividere... No, è l'altra... Ave, pensare allo stesso modo... E invece no, cioè, non necessariamente... Siamo dell'arci? Questo è il problema del tanto conmigo siamo. Che bisogno? Gattirizzi tutti ed essi tutti guanti. Come la soglia della... E come lo sai che io, cioè, ogni volta che io... Non parliamo di questa non è il cittadino. Ma tanto dopo bisogna rimanere, perché si fa tanto... E questi genitori... Siamo... Allora... Allora... Questo, come ho detto, è appena detto... E' appunto quello... Che... Possiamo solo tenere ben presente... Non possiamo metterci in testa dei soldi... Ma anche la realizzazione... Il problema va tenuto presente... Specialmente... In quelle situazioni... In quale il gruppo è necessario per... Non è idea... Forse loro hanno idea... Di quanto tempo viene perso... Per fare il gruppo... Per fare il gruppo... Per fare il gruppo... Per fare l'unione... E la riunione della giornata... Come è arrivato? Abbiamo deciso un accidente... Abbiamo parlato due ore o quattro... Sui grandi sistemi... Ci aggiorniamo... E questo è vero... Nel microcosmo... E questo è vero per l'Italia... E ci sono persone che prendono... 20.000 euro al mese... Più di quanto prendono un operaio... In due anni... E stanno lì a farsi... Masturbazioni mentali... Parlando di grandi sistemi... E tentando di farci capire... Che comunicano... Se caspita... Comunicano... A parte impiersi le tasche... Ora... Al di là di queste considerazioni... Ritorniamo al punto... Comunicare... Vuol dire mettere in comune... Quindi emittente... Ricevente... E stessa lunghezza d'onda... Oppure l'utilizzo dello stesso... Codice... Ma attenzione... Non si parla... Dello stesso codice... Linguistico... Ho detto prima... Non importa... Parlare la stessa lingua... Ho fatto anche... Degli esempi volgari... Per questo... Non è la lingua... Che accomuna... Ma il modo... Con il quale... Utilizzi il codice... Che sia il Forsram 4... Che sia il COBOL... O l'Assembler... Tanto per dare un po' di spaccio... Anche agli informatici... O linguaggio Machinal Basic... E... Bisogna... Vedere come lo utilizzi... Io l'ho fatto il corso di informatica... Ai miei tempi... Ho fatto il Forsram 4 e il COBOL... Non girava mai il programma... Oltretutto... Ero a Firenze... I programmatori bastardi... Ci mettevano in uscita... I peggiori improperi... Della serie Cambia Mestiere... Datti all'Ipica... Sparati... Suicidati... Buttati dal ponte... Cioè... In output... Quando il programma... Io... Parlo dei tempi... Quando c'erano le schede perforate... Quindi ti puoi immaginare... In uscita... Nelle stampanti... Venivano le cose più... Più... Terribili... Fiorentini... Questo sono... Secondi a Livornet... Sì sì... Infatti... Non ti diceva... Guarda... Blocco del programma... Errore in... E poi... Infilati... Una spada in gola... Una cosa del zero... Volevi chiedermi qualcosa? No... Perfetto... No... C'è... Il fatto di... Incontrarsi... No... Incontrarsi... Cioè... Stare insieme... E mettersi un'assemblea... Cioè... Credo che ci sia... Un lavoro preparatorio... Che non viene... C'è un significato diverso... In... In... Contro... In... Sono... Quello che... Prevede... Un movimento di modo... Altra persona... Non altro... Quindi... Io... In... Vado contro a lei... Questo non vuol dire che le sbatto contro... Ma... Io mi muovo... Quindi... L'incontro... Prevede... Un aspetto importante... Per le strategie cliniche... Che non viene mai adoperato... O raramente... O non in maniera sempre propria... Cioè... Una accoglienza... Io... Vado verso... Non aspetto che il paziente venga... Quindi... Io... Educatore... Io... Psichiatra... Io... Psicologo... Vado... Incontro... Perché... Il tossico... L'anoressico... Non vengono a chiedere aiuto... Perché loro stanno bene... Ci vengono portati... O in qualche altro modo... Pertanto per fare degli esempi... La comunicazione... È una cosa diversa... Prevede... L'aggiustamento... Del tiro... Per trovare... Quello che... La laureata... In scienza della comunicazione... Definiva prima... Trovare il codice... Adatto... Che non si ferma... Ripeto... Il codice linguistico... Chi vuol fare lo psicoterapeuta... Dovrà allenarsi... A trovare... A cercare... La linea giusta... E quindi dovrà fare... Come abbiamo fatto io e lei ieri... Che a un certo punto... Ci siamo messi... Almeno sullo stesso piano... E abbiamo creato qualche presupposto... Per una buona comunicazione... Qua non è automatico... Però... Per esempio... Abbiamo detto... Ah... Guarda... Seduti per terra... Si sta bene... Sentire... Ecco... Questo... Era... Un primo momento... Un primo atto... Che... Accumunava... Cioè... Rendeva... Due persone simili... Dimmi... Vedo che ci sia... Una differenziazza sostanziale... Che sia... Un problema... In quanto... La comunicazione... In... Due piccoli valori... Che ci stessano... Sarò... Che hanno due... Il tipo... Il sentire... E' l'ascoltare... Cioè... Una persona... Senta... Se ascolta... Quello che gli... Vieni... Invece... Se sente... Solamente... Informazione... E' l'esce dell'altro... Oretto... Sono... Due cose... Che... Tu puoi sentire... Lo so... Oretto... Quindi... Se senti... Ascolti... Può andar bene... Se solo senti... O solo ascolti... Può non bastare... Quindi... Anche qui... Si arricchisce... Sempre... Però... Siamo ancora... Un pochino indietro... Stiamo parlando... Dei... Pre-requisiti... Per la comunicazione... Nel gruppo... E... Non... Come... Nell'esperienza... Ovviamente... Di chi li fa... Non possono essere dati... Per scontate... Perché... Siamo pieni... Di pseudo... Gruppi... O comunque... Di gruppi... Che non funzionano... Come ha appena detto lei... Ci... Chi è una... C'è una... C'è una... C'è una... C'è una... C'è una... C'è una... Persona... Anche... Non dico che... Verge, lo dicano... Ma... D'una... Esatto... Vi... C'è una... Ovviamente... No... Non mi ricordo... la appena cioè prima ha definito il punto essenziale che manca che fanno i cardinali nel conclave cioè non si esce di qui finché non esce il Papa nuovo punto questo è un qualcosa di essenziale cosa vuol dire? il gruppo si riunisce e deve avere un organigramma deve avere una specifica chiara dei ruoli e deve proporsi l'obiettivo minimo minimo l'obiettivo minimo deve essere una condizione sine qua non poi ci possono essere dei targets cioè degli obiettivi 1,2,3, ci può essere anche il goal che si risolve il problema cioè noi siamo qua per risolvere il problema del non è detto che lo risolviamo però l'obiettivo minimo deve essere posto chiaramente e altro problema è quello della definizione dei ruoli che vanno decisi a monte non siamo tutti uguali abbiamo come dicevamo ieri gli stessi diritti ma non siamo tutti uguali quindi ci vuole il coordinatore che non è necessariamente il leader ma deve essere un coordinatore referente chiamalo come ti pare che può essere il presidente come può essere un delegato o qualunque altro comunque ci deve essere la persona che fa da collettore quindi immaginate diversi canali che non necessariamente sono i canali di scolo non pensate immediatamente ai canali di scolo dell'acqua piovana ma ha un qualcosa anche di più arricchente un collettore molto importante chiaramente questo è l'avere un certo tipo di ruolo e questo ruolo deve essere riconosciuto quindi deve essere un po' con un ok non basta essere un leader può essere un leader allogante e non serve assolutamente niente in quella situazione così come non è necessario essere un gregario perché se no subisce del passivo e qui si entra in un discorso molto molto complesso perché siamo in un paese dimmi la comunicazione non deve essere il capo carismatico il mediatore deve anche conferenze scafola se tu puoi guardare 5 minuti ti metti poi basta poi deve rispondere dal punto di vista su questa cosa e si deve decidere deve essere messo chiaramente risposto chiaramente in modo in quale si decide per esempio la maggioranza questa non viene mai fatto in un gruppo di avver si fa la scelta di mano si è d'accordo si è fatto non mi sembra bagliato non mi si tratta beh si è fatto così anche io perché prima è facile fare l'altro ma farlo andare agli altri grazie grazie sono divisi però è proprio questo il punto il regolo deve essere chiaramente esposte nel linguaggio sia verbale che non verbale chiaramente esposte uguali per tutti eh o condivise o se non sei condiviso ti alzi e vai dire cioè capisci non possiamo raccogliere tutti e questo è un grande punto che è a svantaggio di una secondo me demagogia tu devi dire questo è un sistema democratico un pochino all'antica Grecia in cui tutti hanno diritto di parlare ma hanno diritto di esporre il punto di vista ma è necessario prendere una decisione la decisione non può essere condivisa al 100% da nessuno più il gruppo è numeroso più questo è impossibile quindi la regola è si fa quello che dice la maggioranza attenzione perché se avete una maggioranza di idioti prendete decisioni idioti no non si fa un altro gruppo eh deve stare molto attenti non è così semplice quindi come decidi quindi come fai la capacità di guidare la comunicazione ma se c'è il gruppo di idioti non vuoi dare quello che ci pare i idioti sono un pochino un pochino più fine ma è che si è stata un pochino più fine ma è che si è stata un pochino più fine ma tu sei bravo a fare questa cosa dare te le è gratificate la persona dai così ci siamo stabilire le competenze studiare non stabilirle ma studiare analizzarle perché per quanto uno si è un idiotano è difficile che si è un idioto su tutto lo reddito idiotano nel senso comunicante e siete arrivati ragionando nella vostra testa a un punto estremamente importante che però se chi ha esperienze e gruppi vede come difficile attuare in altri termini non c'è non è necessario chiamare un psicologo del lavoro che fa i test di personalità si può anche fare ma in uno studio attento può far capire che io sono idioto di qualcosa e invece ho una competenza su un'altra lui su un'altra su un'altra ed è questo l'allecchimento del gruppo perché se siamo tutti uguali tutti abbiattiti vabbè facciamo la sua cosa per la sua questa volta se lo cambia in un'altra quindi va bene quindi è la diversità una volta in più che arricchisce chiamiamola la laureata in scienza della comunicazione siamo a posto ma non è il saper leggere non è che abbiamo bisogno dei raggi X è necessario trovare una situazione nella quale l'altro si senta proprio agio e si manifeste al di là del curriculum vita che comunque è bene osservare non puoi far funzionare il mondo non vorresti tu ti alzi e te ne va possiamo cercare di salvare il mondo ma non siamo il mondo siamo le nuove domini l'uomo che non deve chiedere questo è una pubblicità quindi ti trovi in un gruppo nonostante le tue buone intenzioni non gira pazienza dice che ti forzi a convincere il gioco non è il tuo ruolo o il ruolo o il leader del gruppo decide che c'è un supervisor e questa può essere un'altra soluzione un supervisor cioè chiama lei come consulente se non può fare i bottini lei aspetta c'è un gruppo che si è arrivato riesce a capire e lei si mette dietro e fa un po' d'assertazione se sono d'accordo può fare anche un'assertazione più specifica e fornire anche un po' e dire guarda c'è un componente lei che mina tre volte le situazioni e quindi suggerire guarda non la buttiamo nel suo programma che c'è la mia le suggeriamo di semmai farsi il gioco in generale il gioco posto la buttiamo per quanto è possibile questo per fare un nuovo esempio però la appunto queste cose che sto dicendo sono le condizioni per attuare una comunicazione efficace all'interno e vedendo si conto che comunicare non è parlare non è sentire non è sorridere ma può dire mettersi in gioco direttamente con una parte di noi con quello che noi desideriamo condividere in quel dato la meglio situazione lei mi ha raccontato alcune cose prima io le ho capite non sono riuscito a condividerle insieme perché la cosa era troppo difficile e qualunque cosa avessi detto avrei sbagliato perché era necessaria un'analisi non superficiale ma più approfondita e allora ho aggirato il problema e ho detto guarda ci vuole qualcuno che con più tempo di me e con competenze per studiarla a fondo perché quello che mi hai posto è una situazione che merita un approfondimento e un'attenzione maggiore si è chiusa la comunicazione su questo non so quanto arricchente però c'è stato un livello di comunicazione se io avessi preso altre strade la comunicazione sarebbe stato un fraintendimento e assolutamente sì e poteva essere negativo perché allora lei poteva pensare ma come in tre minuti mi ha detto la soluzione allora sono un cretino per esempio perché non sempre ci dice come è bravo lui si dice anche come sono scemo io specialmente se uno è coinvolto in una certa situazione quindi vediamo se questa cosa sono uscito a spiegarla chiaramente ci sono dei prerequisiti essenziali per una comunicazione la comunicazione può essere buona o ottima ma comunque si deve attivare e si attiva se è come abbiamo visto prima circolare cioè se non circolare come un circolo vizioso se io mi attivo e lei si attiva con me su un canale pensate che questo è vero anche per le coppie e che non esiste la mela tagliata in due ok è già un non siamo due spicchi della stessa mela è già una fortuna se abbiamo alcuni dei famosi specchiettini della palla della famosa discoteca che si avvicinano quindi se abbiamo più di un livello di comunicazione acceso buono bello meraviglioso per cui se condivide cum divide alcune cose col suo amoroso col fidanzato quello che è benissimo ma avrà altre parti che non potranno essere condivise potranno essere accettate che è un concetto completamente diverso ok quindi anche questa pretesa di completa addirittura annullamento nell'altro non è umanamente possibile anzi può creare enorme tensione figuriamoci nei gruppi e di nuovo la comunicazione non è il tirar fuori a livello di coppia ma mi pensi ma quanto mi pensi ma mi ami ma quanto mi ami un metro e mezzo tre chili e due oppure due litri e quaranta no perché alcuni pretendono avere l'amorometro o l'affettometro questo è un bisogno che viene tirato fuori si riscontra anche nei gruppi in tutte le lezioni in cui ci sono come voi gruppi abbastanza interessati e non troppo numerosi c'è sempre la persona che arriva e dice oh senta io avrei questo problema che c'è la consulenza immediata questa non è comunicazione così come non è comunicazione essere spontanei e dire tutta la verità nient'altro che la verità tutta la verità non è necessario se vuoi e se sei risuoso valla a dire al prete in confessionale ma non al fidanzato li devi per forza dire tutto no gli scaramenti addosso le tue ansie e scone un altro psicoterapeuta poi lui c'ha le sue e le tue e se poi gli girano le balle è un casino perché poi si rompe un rapporto ma allora devo mentire no attenzione pensiero di nuovo dicotomico puoi tenerti delle cose per te senza bisogno di scaricare di dire tutto bla 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 ma sai che mi è capitato oggi ma allora lo sai Giovanni allora è successo di Francesco allora è successo Giuseppe al certo punto uno attacca esattamente l'esempio l'esempio dello psicoterapeuta è proprio questo di accogliere il vomito la cacca degli altri ma lo fai per mestiere e poi è così e però per levartela di dosso io per entrare nei miei panni dopo che ho fatto un pomeriggio di studio ci metto un paio d'ore e non è uno scherzo quindi anche ritornando alla comunicazione non è comunicazione lei che telefona alla sua amica alle due di notte per dire non sai che non è comunicazione non è feeling è voler male alle persone c'è appunto la vittima sacrificale l'agnello sacrificale e il sadico che ovviamente se ne frega dei bisogni dell'altro tutti voi avete un'amica che vi chiama alle due di notte no dimmi tu non telefoni alle due di notte il concetto di amicizia il concetto di amore di affetto è assolutamente indescrivibile in termini razionali però qui si parla di comunicazione e di tipo di comunicazione comunicazione predispone quello che presuppone quello che appena ha detto lei c'è uno scandalo quindi se io ti sono amico ti sono vicino presuppongo che tu sia vicino a me quindi l'amico è a disposizione per cui però capisci il vero amico a meno che non ti stia crollando la casa addosso alle due non ti chiama per raccontarti le cose solo se è sul loro del cornicione prima di buttarsi di sotto ti chiama ok poi vi sono differenze culturali se capito se io ti sono amico Fabio non ti chiamo stanotte alle tre perché so che tu domattina vai a lavorare e ti rompo le balle ti mando un messaggio e ti dico guarda ho bisogno di parlarti appena poi mi chiami e se sto per morire chiamo il 118 l'urgenza medica vai in ospedale se te ne rendi conto se proprio sei all'estremo d'accordo fai tutti i numeri se sei in città la montagna però fai sempre il 118 il 113 il 112 non rompi le balle al tuo amico ora male pura che mi ha vomitato che già la dotto male io ho dovuto tagliare perché mi condizionava sì io mi sono anche aggiunto un'analisi perché io vivevo questa persona ha detto sto entrando in depressione lì arriva tutti i giorni parlava non ci stava con i senti e io vivevo questa situazione che mi portava che andava a lette allora anche qui c'è una diversità tra la comunicazione femminile e la comunicazione maschile e si parla di diversità non si parla di bello di brutto e io sono di quelli che si augurano che la diversità fra maschio e femmina rimanga in eterno perché io per ora apprezzo tantissimo il femminile e la femminilità non in sento soltanto vezzeggiativo ma nel senso proprio del quindi non perdete non diventate degli uomini c'è una bellissima diapositiva che dopo degli uomini se diciamo abbastanza brutta è così non peggiorate le cose e lo sono sempre lo sono sempre caustico tornando al dunque il mondo femminile ha questa caratteristica che parla e parla e parla cominciano esatto c'è una bellissima barzelletta che dura 25 minuti che parla di due donne che si incontrano e cominciano a parlare ah sei stata dal parrucchiere ti sta proprio bene e continuano a parlare per 20 minuti del fatto che c'è il bel taglio che c'è il colore c'è di lì c'è di là ma come si chiama sei stato dallo stesso due uomini si incontrano uno è stato al parrucchiere fate i capelli che dito che cazzo devi dire basta entro sul treno un'ora due ore di treno ci sono delle persone che entrano con me parlano per tutto il viaggio di assolutamente niente cosa caspita avete da dirvi comunque ecco bla 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 è bellissimo specialmente se uno fa un lavoro di questo tipo no serve ma può trovare problemi nella coppia per quello che dipende dal tempo del lavoro niente fece oggi niente devi sapere non glielo dice così lui ti dice niente vede bocca cosuta come dicono in Sicilia cosuta 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 avete fatto delle no no avete fatto degli esempi assolutamente pertinenti che si ritrovano poi nei gruppi o nei gruppi terapeutici eccetera pensate ai prerequisiti di cui ho appena parlato Dino ho appena detto una cosa della vita di tutti i giorni io torno a casa sono stato in ospedale ho fatto l'università ho fatto tre riunioni ho stato in treno non ho voglia di niente se mi metto a raccontare tutte le cose ci metto un'ora e mezzo e poi c'è a casa una persona che mettiamo è stata con i figli ha pensato alla casa ha fatto di lì fatto di lì allora qual è il punto ricordare ottenere presente questo aspetto e che è necessario emettente ricevente lunghezza d'onda quando arriviamo in questo tipo di situazione è necessario prima ricreare il presupposto cioè la lunghezza d'onda cioè se io arrivo e gli do un bacio sulla fronte questa è lunghezza d'onda giornata pessima parliamo dopo per esempio può bastare un qualcosa è chiaro no se se io ho un amico guarda pessimo ne parliamo dopo capito piuttosto che un tentativo forzato allora come è andata allora che hai fatto allora che hai detto e allora per cui uno si sente quasi in dovere però allora cercare ora c'era la positiva precedente i vari livelli comunicativi che possono essere verbali ma non verbali per esempio quello che diceva Dino guardarsi nello specchietto l'autovisione della macchina prima di entrare in casa vedrai che sei sempre un pochino accigliato hai fatto il viaggio in macchina allora intento di stenditi un attimino stendi se no ti vengono le rughe peggio di quelle che hai un bel sospirone ora sono in una nuova realtà sai cosa vuol dire entrare in casa sorridendo? al posto di entrare in casa? no? considerarle queste cose è vero nel gruppo ma è vero è molto vero nella comunicazione interpersonale considerarle il contatto molto importante le donne si toccano di più gli uomini si toccano di meno va bene non c'è mica bisogno di abbracciare di baciare va bene ma può bastare cioè delle volte il tocco può essere importante in situazione ovviamente di già presente confidenza no? e conoscenza c'è chi piace e chi no se mi tocca non è strano mi dà fastidio anzi mi dà fastidio anche la troppa vicinanza le persone che ti vengono davanti io vado indietro e quelli vengono ancora avanti facciamo dei chilometri cerco di non chiudermi nell'angolo oppure questa cosa qui l'odio capito ma non mi toccare ma che caspita eccetera proprio terribile a me no beh va bene mi dà fastidio non mi devi toccare ho il mio mondicino interno non mi devi toccare poi è chiaro che se ho confidenza però lei non mi tocca lei non lo fa così perché lo odia anche lei lei se mai mi fa sai Carlo ma questo è diverso è come se aggiungesse ok oppure non mi vede mi salta in braccio come fosse una bambina e io la prendo con la bambina e me la porto in giro ma è un altro livello di comunicazione capito non è è che odioso bruttissimo oppure appunto venire con più o meno l'alito cattivo vicino no cioè vabbè torniamo torniamo di nuovo va bene il corpo umano ci sono ci sono delle persone specialmente nel vostro senso che della mia esperienza facevano già cattivo odore all'8 la mattina figuriamoci cattivo odore guarda che in ospedale è ben noto questo di come il vostro sesso non sia attento così attento alla cura di sé le infermiere lo dicono immediatamente in situazioni di normale ospedalizzazione le donne sono 50 volte più sporche delle maschiette che ti devo dire non lo so così è il report quello che riportano le infermiere nell'ospedale anche io non lo immaginavo francamente ho sempre lavorato in ambulatori non nei reparti dire se non per far visita quindi io io non ti posso dire però da più parti e in più ospedali quindi parlo di due grossi i cuori clinici la diceria è questa quindi questo può semplicemente dire a mio avviso che è probabile che in situazioni di ricovero ma non in reparti catastrofici vi sia un po' una sinecura cioè la donna che non ha così cura di sé perché non c'è altra spiegazione a livelli culturali anche diversi comunque torniamo alla comunicazione la donna sempre sta bene che ha sempre avuto questo compito di prendersi pure degli altri soprattutto dei figli come madre non è così strano sai poi ci sono differenze ci sono differenze individuali enormi però questo comunque che è quello che si racconta ve lo vendo per quello che mi hanno detto non è così importante diciamo che è importante all'interno di un contesto che possa far capire che la comunicazione appunto può essere arricchita di contenuti diversi a livello della comunicazione intima quindi fra consanguinei fra amore marito figli e genitori ma all'interno dei gruppi è lo stesso per cui il comunicatore laureato o meno in scienza della comunicazione dovrà studiarsi per esempio il fenomeno come la prossemica quindi il movimento del prossemica il movimento del corpo il fatto che io sono prossemica da prossimo da prossima che vuol dire vicino quindi la prossemica è quello che dicevo io prima o quello che ho fatto vedere ieri con lei cioè la distanza lo spazio vitale di cui ho bisogno tutte le persone che hanno bisogno di una vicinanza o invece persone che hanno bisogno della propria libertà di uno spazio vitale il linguaggio del corpo appunto la chiusura l'apertura anche qui senza a mio avviso esagerare vi sono quelli che dicono si alzi il ginocchio si alzi il gomito si alzi lì se ti tocchi i capelli cioè esatto non c'è niente di matematico però un'attenzione particolare è importante notarla non sempre uno che ha le braccia incrociate è chiuso per cui Dino non è chiuso anzi è apertissimo ha parlato ha comunicato mi ha chiesto un sacco di cose sta comodo così in questo momento si appoggia sì però non sono così universali alcuni sono universali esatto esattamente alcuni sono messaggi universalmente noti e sono la rappresentazione facciale delle quattro emozioni principali poi però il movimento è chiaro che sì più sei chiuso più sei difeso e più sei aperto però non è così importante è chiaro che questa insieme ad altre componenti ti può far capire per esempio in una situazione forense o clinica se la persona dice o meno la verità ma questa è una delle componenti per esempio se si tocca la bocca come? con la spetta di mano che comunque in base a come ti stringono cosa dico perché lo stringono come la mente no? sì ma ci sono dei fattori culturali o abitudini assolutamente esterne all'individuo per cui ci sono delle signore che danno la mano tipo un pochino però esatto però capito questo non vuol dire che sono sfuggenti per forza vanno pure del contatto o gli altri che abbiano imparato capito che oppure uno è andato da un comunicatore che gli ha insegnato cosa stringe la mano e poi la stringe bene ma la stringe perché gliel'hanno insegnato non più che questo è una sua caratteristica intrinseca una volta la stringe è a terminare con un sguardo rivolto verso il basso che in maniera di tutto comune potessi che si può pensare che questa persona è timida e non è neanche per niente aveva questa potenza semplicemente perché culturalmente le donne non potevano andare a fare un sguardo a mano perché non potevano potevano ma era meglio di no perché se no potevano farlo più lì ma Giovanni capito eravamo musulmani anche noi 50-60 anni fa andavate in giro con le pezzuole mia donna andava in giro con la pezzuola perché era vedova e quindi c'era la pezzuola però non di quelle così aveva tirata dietro non era no no non questa non quella chiusa davanti vabbè in Sardegna le ho viste ancora nell'interno la Barbasa ancora queste donnine sì quindi va bene diciamo siamo sulla comunicazione verbale non verbale prossemica linguaggio del corpo e interpretazione ripartiamo da qua come? allora abbiamo una nostra cavia di stare buona per circa 40 secondi che lui fa la sua calibrazione quindi lui capta quello che vedete rappresentato è quello che avete visto prima cioè proprio l'andamento dell'onda R che in questo caso è molto regolare è buon per lei esatto quello che avete visto questa mattina che vi ho fatto vedere qui c'è la respirazione rappresentata e questo è filtrato il messaggio della ok metti una manina sul pancino sull'ombelico bravo ora alza la mano quando respiro no devi muovere la mano con la pancia spingila butta fuori il fiato allora inspira con il naso ed espira con la bocca questo dà in il valore del tempo la frequenza cardiaca la frequenza respiratoria e l'andamento medio poi qua fanno analisi spettrale che serve dopo l'importante è vedere quelle linee che normalmente la persona non vede quelle linee rosse blu e verdi c'è scritto un po' in inglese ma abbastanza facilmente comprensibile c'è scritto low med medium e high che corrisponde alla coerenza tra gli atti respiratori e la frequenza cardiaca ovvero ci dice quanto il suo diaframma in questo momento è messo bene o è messo male e cominciando a respirare in un certo modo comincia a comparire il verde soltanto con la respirazione quello qua è facilmente visibile intuitivo non ho portato il cavo per la però vedete lei ha iniziato a prendere un buon ritmo ispiratorio ha chiuso gli occhi perché il vedere questo focalizza l'attenzione e riesce a distendersi ovvero a trovare un buon livello di coerenza che corrisponde a un buon bilanciamento fra città nervoso autonomo simpatico e parasimpatico hai visto? e non lo sapevi e però ha avuto un disturbo di asma quando? dagli 8 anni fino a tra i 2 vuol dire che grazie all'asma hai imparato a respirare bene questo punto è una fotografia del momento e dell'ultimo periodo della vita di una persona quindi questo è l'andamento di Maria Grazia dell'ultima settimana di un mese non è soltanto in questo istante anzi in questo istante probabilmente è più carico di tensione per i motivi che abbiamo appena detto è bene è un po' in pubblico questo è soltanto per far vedere come da 100 quasi a 100 nel 97 sei calata semplicemente applicando la prima fase della tecnica di qualsiasi tipo di rilassamento che è la respirazione diaframmatica poi è chiaro che se uno parte da incoraggiato come in questo caso continua perché quello che gli eri visitavo il signore con quella recidiva del tumore è molto importante anche questo aspetto cioè il vissuto positivo il sorridere essere gratificato aiuta a distendere quindi anche se non fai tutti questi respironi però è un andamento positivo si chiama in gergo stimolo vagale ovvero il sistema parasimpatico per il sopravvento quando appunto hai una situazione di piacevolezza di piacere il godimento misurato ecco non hai bisogno di mangiare tutte le paste della pasticceria ecco non è questo o di farti perché perché voi mangiate tutte le paste della pasticceria no ora dopo lo facciamo a Maria Rita così impara no a Rita non a Maria Rita Maria Grazia tu ci sei questo vedi questo relativamente regolare questo sono delle risate per cui c'è un mimo di apnea e le onde si sovrappongono esatto 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 poi ritorna regolare quello che più interessa a livello proprio analogico è quello che leggiamo in fondo è quello che poi dà il risultato complessivo facendo appunto questa che si chiama il gergo appunto analisi spettrale ok quindi di tutto l'ospetto delle componenti non pensate che sia così facile come è facile a lei provare per credere per credere perché non la conosce a fondo nemmeno quando dorme tranquilla lei io la conosco bene da molto tempo dalle due vite precedenti ti ricordi? allora vi faccio vedere anche una cosina molto carina che è molto molto utile per tutte le persone così vedete direttamente cos'è il biofeedback il biofeedback o biofeedback ora sta facendo una buona calibrazione quindi lui sta registrando ora tu facendo la respirazione di prima aspetta che metto la voce che cos'è tu lo sai benissimo in inglese vero? first I'd like you to focus your attention in the area of your heart in the center of your chest it's a gentle process where you can just feel your attention shift to the area of the heart got it? got it now the second step is adding heart focused breathing maintain your heart focus and while breathing imagine that your breath is going to get out of your heart try this for a few breaths to get comfortable with heart focused breathing now set the breathing pacer to a comfortable pace while maintaining heart focus and heart breathing follow the goal gently breathe in through your heart as it's going up the curve and breathe out as it's going down use the slider to set the speed of the ball so that you are breathing deep all right ispirazione lunga 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 fino al cima e ora ispirazione dal bocca aperta poi di nuovo deve arrivare fin qui poi lunga lunga l'ispirazione deve essere lunga lenta lunga e l'ispirazione profonda seguendo la pallina la pallina non avete idea è un aiuto eccezionale perché normalmente noi non ci accoggiamo ma respiriamo tutti insieme non c'è bisogno non c'è l'esame stai andando benissimo bello lungo quindi l'ispirazione che dura tutto questo tempo per un attimo di stop e poi svuotare cosa perché non puoi andare da tua sorella a te ti farebbe molto a te ti farebbe molto molto comodo tra qualche settimana questa cosa qua ti farebbe molto comodo perché non devi fare come il film e respirare come vedo nel film hai la sorella ossessiva lo sapevi si? che cosa? niente guarda ti faccio vedere ti faccio vedere se qualcuno le aveva le cose non è così facile allora guardate la differenza guardate la differenza fra lei è molto brava ma questa è registrazione libera puoi venire più vicino no ti dicevo a te vieni più vicino qua lui dicevo a te non l'ho capito che ogni tanto mi tira uno sguardo brutto vedete questa è la registrazione libera e lei molto brava questo ha fatto tre minuti seguendo la pallina il verde guardate la percettura del verde la percentuale del verde è 79% con l'ausilio e 31% con invece a livello libero guardate anche la pallina che c'è sopra che ci indica la differenza fra la frequenza cardiaca media quindi seguendo la pallina la frequenza cardiaca è molto più bassa pur essendo in tutti e due i casi nel range della norma esattamente aveva 75 battiti contro 78 un pochino altro leggermente tachicardica come? come non ho capito? sono a familiarità per tachicardia questo mi dispiace meglio quando meglio quando capita quando il papà ha 125 anni qualche altro volontario? ti hanno fregato anche ora Rita? no non posso finire Rita 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 Tieni te lo faccio sul dito a te vieni guarda la cosa straordinaria di oggi sono i tuoi pantaloni me l'ha già detto qualcun altro non sapevo cosa mettermi ho trovato la prima cosa che ho trovato davanti figuriamoci l'ultima anche gli uomini anche gli uomini la concedi me l'ha concedi la tua mano per la doppia più importante è l'importante che gli uomini gli alati hanno la sua hanno la regolazione di loro per l'altra oppure le ragazze adesso mi fanno ormai non c'è un'altra bassa ma non c'è se mi guarda le ragazze non toccate le ragazze al giorno da problemi però la camminata anche lei non è scoperta ieri di scoperta poi le ore con se le va votando da dieci gridimi la data di nascita molto bene oh madonna un'altra volta grazie a solda r o no Grazie a tutti. Non ce l'è bisogno. 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 Riempi lentamente. Non ce l'è bisogno. 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 cardiogramma. non ce l'è bisogno. 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 come ce l'è bisogno. come ce l'è bisogno. come ce l'è bisogno. come ce l'è bisogno. non ce l'è bisogno. come ce l'è bisogno. Aspetta, prima non devi fare niente. I primi dai 20 ai 40 secondi sono di calibrazione del suo segnale. Ma tu vai tranquillo, non ci dai così tanto fastidio, vai tranquillo. È rosso, sì. Quindi non è colpa tua? Non è mai colpa tua. Sono nata così. No, no, non ci sei nata così. Mia mamma è ansiosa. Quindi basta uccidere le madri e abbiamo risolto il problema del mondo. La prova inizia a fare respirazione mettendo la manina sul pancino. Vedi come già cambia? Bravo. La lettura può essere anche complessa, perché possiamo tirar fuori l'intervallo interbattito, un sacco di cose. Però questo è l'aspetto clinico che il clinico può analizzare, soprattutto per andare a valutare, come più volte ho detto, la bontà degli interventi. E' chiaro che una persona che, come più volte è stato detto e mi sembra anche da Savino l'altro giorno, che ieri, l'altro giorno, sembra un mese che sono qua, persone che fanno uso costante di stupefacenti hanno circuiti di graficazione così utilizzati che non provano più nessun piacere se non nell'utilizzo della sostanza. Quindi a voglia che ci sia Natale il panettone non mi interessa proprio, anche se tre anni fa erano volosi solo il panettone. Quindi in queste persone è chiaro che il piacere, la sensazione di piacevolezza, tanto da innescare una risposta vagale, è quasi assente. Questo è una specie di riprova, parlo con loro che lavorano con persone dipendenti della sostanza. Questa è una riprova perché quando si muove e quando davvero si distende non solo respira bene ma prova anche il piacere. Oppure lo riconosce, lo ricorda, lo rivive, non so se riesco a spiegarmi, no? Così come in un altro campo nella riabilitazione neurologica misurare la conduttanza cutanea può essere fondamentale nella riabilitazione nelle fasi iniziali, chiaramente nelle fasi finali dell'Alzheimer puoi fare niente, ma nelle fasi iniziali è di fondamentale importanza perché la risposta psicogalvanica ti dice che la persona è in grado di provare e riconoscere l'emozione. Se tu lavori su questo e non soltanto sulla settimana eligmistica, ecco che la persona risvegliando quel dato tipo di emozione va a combattere le emozioni negative e sei in grado di rallentare il processo di degenerazione. Guarire non ci guarisce. Allora, il rosso è la bassa, il basso livello di concordanza, una bassa coerenza fra l'atto respiratorio e la frequenza cardiaca. media vuol dire che è così così, alta vuol dire che c'è un'ottima concordanza e che quindi le stimolazioni dei due sistemi automatici, il barocettore, il camocettore e il sistema di riposto autonomo, stanno andando molto bene. Quindi la tua respirazione e il tuo battito cardiaco sono adatte al tuo corpo. Ora, qua, sei seduto su una seggiola, è inutile come avevi tu prima che tu avessi 99 battiti al minuto. E' assolutamente non fisiologico. Se non è fisiologico, Rita vuol dire che è patologico. Quindi il tuo cuore ne soffre, il tuo organismo ne soffre, il tuo cervello ne soffre e quindi tu ne soffri. Sei apparentemente gaia, ridente, ma nonostante la roba che porti in borsa, non... Appunto, certo, è giusto, tenerla in borsa e non prendere è una cosa che fa benissimo. Comunque... No, 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 no. Eh, dai, 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 dai. No, allora, io prendo ogni tanto medicina di emergenza, quando sto proprio con stato... Cosa prendi di emergenza? Allora, normalmente devi prendere il saldo. Buttalo via subito. Sì, però io adesso lo so sentito una cosa che non la sono trovata da sola. Mettiamo apposta. Ecco, benissimo, me la ringrazio. La ciclora, bianco spino e... Bianco spino e... Bianco spino e... Quello nell'emergenza funziona con la vela rima. Quello devi prenderlo tutte le sere, devi... Sì, no, fa... Bianco... Al posto di prendere questa cosa, prendi l'anevrasi, anevrasi, sciroppo, anevrasi... La miscela di piante officinale. Anevrasi, con la V, V come Viareggio, Verona, Vicenza, Venezia... Quanti cucchiaini devo prendere? Uno, due, ne prende anche tutta la boccetta, ma è meglio... Eh sì, vogliamo vedere cosa arriva, oltre al fiume, all'acqua, al verde... Dove delle rose... Oh no... Ti fai così bravo... Un attimo che fa la calibrazione, eh? Sì, sì... Questa volta guardi... Brava, vai! Grazie! Sì, sì... Aspetta, vai che me lo dici dopo, perché c'è troppo rumore. Viene fuori, verrà fuori anche altra roba. Sei un cavallo, un cavallo, poi viene fuori un altro cavallo, poi viene fuori il Danilo. Sei così bravo. Ma sembra di sì, no? Guarda che bello. Pensa ai funghi. Sì, direttamente dalla casa produttrice. Sono mica di Napoli. Sono americano, sono americano di Napoli. Per farlo funzionare ti devi collegare via internet a loro, loro guardano se c'è l'originale che tu abbia pagato. Ma relativamente, perché è chiaro che non è che devi fare un esercizio aerobico particolare. L'importante è che tu non stia contratto, piegato, ma se stai seduto anche come lui, o sdraiato, non completamente sdraiato. Può sempre migliorare, vediamo. Mi stiamo dando fastidio a questo momento. È lento, non c'è l'altro. Dai, stai cogliendo il fungo, è lì, è lì, lo vedi, lo vedi. È lento, è lento, è la respirazione, non affannosa. La capacità, la versatilità di questi apparentemente stupidi programmi è eccezionale. Ovviamente il clinico è in grado di incrementare la difficoltà. Wonderful, keep trying! No, non l'ha fatta vedere tutta, non l'ha fatta vedere tutta, però si può dire che per essere in questa situazione davanti a un buon livello di... Quindi, questo è solo per mostrarvi, che poi vi sono tanti, i feedback sono tantissimi. La cosa interessante è che tu lo puoi anche creare. Cioè, io mi vado sul... Ora, sembra che faccia la pubblicità al... Lavori sono buoni. Lavori sono buoni, guarda, ti faccio vedere la differenza. Questi qua... Ok. Che ci sta? Il pancino della signora. Questo è un altro giochino. È un pochino più lai, religioso. Però il significato è interessante. Ho il cuore nelle mie mani ed esci fuori della roba rossa. Quindi vuol dire che sono ancora teso. Vedete il rosso che esce? Se esce fuori il blu va meglio, se esce fuori il verde è la meraviglia. Gli americani sono un po' esistenzialisti su questo. Questo è per quando i compiti si fanno un momentino più complessi. E questo è un buon esercizio per le persone che hanno già preso esercizi di rilassamento progressivo. Perché in questo caso è necessario mantenere la mongolfiera in alto. Perché se cade giù e sto fino a per terra vuol dire che tu non riesci a distenderti. Quindi non solo ti devi distendere, ma devi mantenerlo nel tempo. Tant'è che sta crollando giù, lo vedete? Quindi questo è molto difficile. E' un esercizio da fare successivamente. Più sta ferma, più va giù. Guarda dopo lo facciamo fare a te. Questo è più complesso perché si tratta di mantenerlo. Però in fase avanzata, se non lo guardi non serve a niente. Per le persone che ce l'hanno? In primi si deve fare una buona diagnosi. Quindi ci vuole qualcuno. Poi sotto una guida lo può fare. Ci sono meno costosi che te lo puoi portare a casa e ti fa l'esercizio. Però non pensate che queste cose facciano miracoli. Tu hai capito? Come no? Questo è un grosso ausilio. Però serve in particolare al clinico, all'istituzione, per valutare gli step, gli scalini del cambiamento. Chiaro che questo è un ottimo ausilio, nel senso che è di una semplicità, di una immediatezza, per cui persone di qualsiasi livello culturale, qualsiasi estrazione economica, sono in grado di seguire una cosa di questo genere. di capire il significato. In questo caso, lui, il Fede li dava a noi alla musica, guardate come sta volando. È lui, sta facendo volare, guardate, in cima alle montagne. E poi in mente, era la musica che gli dava un po' fastidio. Comunque, era un po' forte. La mia voce. La mia voce è fatta per rilassamento. Entro un mese esce un libro sul rilassamento, poi me lo mando. Su rilassamento progressivo, muscolare e profondo. Diciamo, lo comprate? Tanto costa poco, costa pochissimo. Una cosa del genere. Sì, sì, sì. Davvero, no, no. E cosa di tutta la mattina? Questa mattina parlavo di un libro un pochino più corposo, con casi clinici. Però, insomma, sono riuscito a mantenere tutte le case elettrici, mi hanno detto 60, 55, ho trovato una casa elettrice che me lo vende a meno di 30 euro, 29, 50. Ma questo è un po' per le dette al lavoro o anche a chi non ha? Questo è un po' per le dette al lavoro. Ma per le dette al lavoro. Terremo anche un'altra cena? L'altra. Se volete prendere qualche libro di proletti, uno di diffusione abbastanza generale, l'ho fatto appunto, ne parlavo con, ora non c'è, sulla scelta alimentare. Sì, si intitola una mela al giorno, ma quale? Capito, la montante. No, questa è la... C'è in Egitto, ora. Occhio, occhio. Occhio alla piramide. Nel senso di come si va al supermercato, come si scelgono le cose, cosa vuol dire nutriente, cosa vuol dire carboidrato, cosa vuol dire additivo, cosa vuol dire... C'è spiegato la scelta, sia in senso psicologico, sia a livello nutrizionale, un po' per tutti, diciamo. Quindi un librettino però che ha un suo senso. Lo trovate, se volete, se volete, a me ne viene così poco che nemmeno se lo comprate tutti riesco a prendermi un caffè. Non ti farei emozionale da loro, per piacere. Stai strofinando per terra tutto quel povero palloncino. Comunque lo trovate su Casa Eritrice Espress con la S, Torino, lo ordinate, vi arriva a casa senza spese postali e col 15% di sconto. Siccome costa 10 euro, ci levate il 15, spenderete 8 euro se volete. Quello del rilassamento appena l'ho finito, l'ho finito ma ancora non è stato. quest'altro è un po' un mattone. In treno. Vai benissimo, il pubblico, le persone ti danno abbastanza fastidio, se ti rinchiudi in te funziona. Hai imparato questa. L'ultimo, poi si continua? Vieni. Le vuole la rivincita, come mai? No, no, non con tutto il resto. No. Alla. Alla. Al... ...una serie di valori medi di popolazioni con diversi tipi di patologie e in assenza di patologie. Quindi fa un'analisi ma anche una comparazione, se no come farebbe a dirti rosso, nero, verde, azzurro. Ecco perché, come hai detto, ho osservato giustamente, vi è anche la necessità di inserire sesso e età. Chiaramente vi sono dei parametri molto larghi, cioè la finestra è molto larga. Ok? È chiaro che un valore di 100 battiti al minuto non va bene per nessuna età, né per il processo maschile né femminile. Però la finestra è abbastanza larga. È chiaro che una persona over 65, quindi dopo la... diciamo quell'età intermedia, per esempio, che caratterizza più gli uomini che le donne, ma insomma, diciamo, oltre la mezza età, eh, la persona cosiddetta attempata comincia a far... a diminuire la frequenza cardiaca media. Quasi tutto può influenzare questo tipo di rapporto. se uno tiene le mani o le braccia strette o se di grigni e denti o se pensa intensamente a una... Brava! Funziona, funziona. È lei che ha fatto yoga fino a ieri e... Aiuto, ma quello che non va bene è la filosofia orientale, che è proprio rivolta all'annunciamento del soggetto, al distacco dalla realtà. Il lavoro che dovrebbe fare un educatore, un clinico, eccetera, è invece quello di cercare di fare in modo che il soggetto, pur rispettando le proprie caratteristiche, quindi aprendo e conservando una buona comunicazione con se stesso, riesca a contattare e modellarsi alla realtà. con un buon livello, quindi senza subirla violentamente, ma nemmeno senza... se no, diventa un disadattato, un sociopatico, uno psicopatico. Quindi è proprio una direzione a 180 gradi. Certe tecniche orientali sono state utilizzate e occidentalizzate e vengono usualmente adoperate, per esempio, sia nel counseling che nella psicoterapia. Brava! Vabbè, ogni tanto troviamo anche qualcuno di sano, eh, non ti sorprendere. ... Attenzione, questa non è la macchina che decide se uno è sano o malato. Dice... anche perché per alcune persone non ci sarebbe bisogno di nessuna macchina, si vede da lontano. E questo dice semplicemente se vi è una buona concordanza tra gli atti respiratori, la frequenza cardiaca e se questa persona ha una tensione esagerata a livello del diaframma e quindi può avere dei problemi indotti da questo. E' chiaro che una persona che ha sofferto semmai per mesi se non di più di attacchi di panico eccetera respira in maniera indecente poveretta e nessuno l'ha insegnato per respirare bene anche, non è che impara così per grazia ricevuta. Quindi è anche ovvio che qui il venti rosso, il pipi rosso non si può. Una persona che ha fatto sport o che ha fatto attività di un certo tipo o che non ha o che respira bene perché nel mare magno di persone che respirano normalmente male ci sono anche le persone che respirano bene. Mettiamo che uno abbia fatto a nuoto per esempio, se hai fatto a nuoto agonistico, tu hai fatto a nuoto? No. Se respiri bene di tuo? Mi concentro con un po' di dover via così da respirazione. Beh è quello che devi fare, certo, vuol dire che ti concentri bene. Quasi quasi la fregola, le faccio parlare di qualcosa di... Sì, perché se mi concentro poi cambia. E' certo. Sì, però tu capisci l'asma è una di quelle patologie che sono una via di mezzo tra la psicosomatosi e le malattie organiche vere e proprie. La chiusura dei piccoli alveoli, quindi dei bronchioli, è parziale chiusura, è dovuta a un sacco di componenti, compresa quella autonomica, perché non è che tu li dici di aprirci o chiudersi, vanno per contro loro. Quindi questa specie di reazione, chiamiamola protettiva, fra virgolette, può essere innescata dalle più svariate componenti. Quindi se quelle psicologiche ci sono, attraverso questo puoi addirittura migliorarlo. Poi non c'è solo questo, poi vedrete la volta prossima quando verrà la mia collaboratrice, vedrete una cosa più complessa, più completa, più adeguata, che fornisce un'idea proprio del bilancio globale, sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico. Questo è un ottimo indizio... Questo è un ottimo indizio per quelle patologie o per quelle situazioni, non ultime, ma quelle nella quale lavorano loro, per le quali una distensione può essere ricercata e può aiutare una persona a mantenerla, a imparare a mantenerla nel tempo. E' oltretutto abbastanza nuova. Vogliamo esagerare. L'utilizzo all'interno, sottolineo, all'interno di una psicoterapia cognitivo-comportamentale di terza generazione, di tecniche di questo tipo, favoriscono così tanto e in maniera positiva i circuiti di gratificazione, da portare a dei benefici, proprio a livello di quello che si chiama il pensiero positivo, cioè cambiare realmente il punto di vista della persona in senso positivo. All'ultimo congresso di Behavioral Medicine, quest'estate, c'erano due lavori che avevano fatto vedere come l'art rate variability, quindi riuscire a dare un feedback, aiutare le persone dicendo provate a pensare, a immedesimarvi in ricordi positivi, invissuti, in aspetti affettivi e emozionali della vostra vita che sono stati gratificati per voi. Non pensate alle cose negative. Allora guardate lì e fate quello che sta facendo lei, quindi registrare frequenza cardiaca, intervallo interbattito e un'analisi spettrale della frequenza cardiaca, per vedere questa concordanza, ha portato dei ottimi risultati in pazienti oncologici, che non è che hanno sospeso la chemioterapia per fare l'art rate variability biofeedback, però hanno migliorato, allungato i tempi di sopravvivente e soprattutto migliorato la qualità della vita. Perché in quella situazione, io vi sfido a pensare positivo, basta che ci facciamo male una caviglia, che imprechiamo in cinese. Io ho sentito una persona che aveva lavorato a fare, e sua moglie aveva costruito una dipendente, c'era lei che richiamava lui, nel senso, non spiego meglio, tutto girava intorno ad Aurelio. Nel momento in cui ho deciso di ammigliare questa persona, era per capire se, prima ha parlato di un miglioramento della qualità, della vita anche della persona, ma questo non coincide con un rallentamento, o sì? Scusami Gustavo, c'è anche un rallentamento della qualità della qualità. L'allentamento è che cosa? L'alzheimer? L'alzheimer? Assolutamente sì, è proprio questo lo scopo principale. C'è un rallentamento che una persona vive meglio. Guardate come bella è. Questo è un po' psichedelico, eh? Non è, però è rispetto a poi il piccolo. Mi dicevo che... ...la miglioramento della qualità della vita aumenta, o meglio, rallenta la protezione della malattia, sempre perché c'era in un altro giro, vini, quindi... Ah, io uso il giro, è questo. E quindi lo vogliamo dire perché. Questa è la diretta conoscenza. Perché... C'era un regno in particolare, che a contatto con la morte, le chiedeva il braccio. Cioè, camminavano e lui pretendeva il suo braccio. Con me invece mi riempivò le tasche con una pallina da tennis, con delle figurine, anche a lui piaceva molto il calcio, no? Per cui mi sono anche documentata. E quindi quando camminavano, lui riconosceva in me un diretto. Quella delle palline e del calcio. Una libertà. Uno spazio di libertà per cui palleggiava questa pallina. E poi io dicevo, ecco, facciamole insieme. E poi le carte. E poi giocare anche al calcio. Questa situazione la si può applicare o comunque... Assolutamente sì, quando viene a lavorare a Parma. Quando viene a lavorare a Parma. Quando vuole. Perché a livello intuitivo lei ha centrato il problema. Va vestito sui singoli tipi di patologie. Per esempio, quello che è necessario fare è con il malato di Alzheimer che poi è un'etichetta. Come dicevo ieri, va diviso in fase subclinica in cui c'è un rifiuto della malattia e il mild cognitive impairment, quindi una fase intermedia nella quale la malattia si presenta, ma la persona ha ancora un livello di coscienza, fino ad arrivare all'Alzheimer con calma. In questi casi, mentre il malato di Alzheimer ancora è in grado di fare qualcosa, ha bisogno di contatto, di vedere, di sentire, anzi, bisogna stare attenti perché può toccare lui, diciamo, anche in maniera non del tutto prosaica. Però invece il tocco, proprio il tocco, in questione della serie E, Giovanni, guardami, questo è esattamente quello che va, per esempio, evitato nel ragazzo, nell'adulto con autismo, schizofrenia. Il contatto oculare è sempre opportuno e utile, il contatto fisico, quasi mai. Ci sono tante le possibilità. Quello che... Lascia, lascia, lascia. Dobbiamo vedere se completa il primo con i... Sì, sì, se c'è qualche parte, non c'è un rapportaggio, non c'è un rapporto, non c'è un rapporto, non c'è un rapporto. Non c'è un rapporto, La professora vuole partecipare, non c'è un rapporto, non c'è un rapporto. Qual è la sua... Non ho sentito la prima parte, non so di cosa è che... Giovanni... Chi è? È l'assessore. L'assessore, che mi chiede già mi... se non arriva al verde nei primi 20 secondi, decade dalla carica. E fanno assessore quello dell'opposizione. È benvenuto, ovviamente. Faccio conto di essere nella sua aula consigliare. Ma io da uno studio per il festeguardo anni fa sopra la popolazione mondiale dove spira bene, corrisponde. Non ho detto... E vedete l'occhio? Assolutamente. E credo... Occidentale, soprattutto. Molte volte in un'azione abbiamo anche la pancia e quelli di respirare male. C'è un discorso di respirazione. E in questo caso poi vediamo che la popolazione che c'è la rossina e la rossina è come il trago. Ci dovrebbero andare a fare. Abbiamo trovato il nostro chiro. No, no, quelli rossi. No, quelli rossi no. Che sono? Che sono? Praticamente... Praticamente... Praticamente più lei riesce a distendere il diaframma e a respirare in maniera fisiologica più il barocettore e il camocettore che sono due sistemi di controllo della respirazione e della frequenza cardiaca vanno in concordanza e quindi questo alto livello questo è arrivato Mambit lo dicevo che era Mambit Mambit ah sì due o tre con il piede lo c'è bellissimo ma a me la pagina è capitata non so non so ma tu fra sei mesi da cercare e tu fra sei mesi o mai è completato Ok, quindi arrivare all'obiettivo, per certe persone è abbastanza automatico, come diceva l'assessore, visto che è arrivato a proposito, studi e lo confermo, ci dicono che quasi tutta la popolazione del mondo occidentale che fa una vita presentaria, ok, you got the hand, bene lei? Dura qualche minuto, però costa molto, va bene, va bene, va bene, va bene. Ma costa, non è una terapia, questa è una tecnica di registrazione, costa, quanto costa una visita, dipende quanto vuole lo specialista, ci sono persone che chiedono 200 euro, persone che ne chiedono meno di 100, come me, hai capito? Dipende dal... Sì, grazie. Io so che un esercizio... Grazie. 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 Perché se tu lo guidi con il respiro è chiaro che tu hai un treno che rappresenta l'onda R che è alta, se lo fai in quel modo si avvicinano moltissimo perché aumenta la frequenza, che in questo momento è molto elevata. È un ansioso, un emotivo il nostro assessore. È anche in pubblico, insomma. Per chi va glielo mette all'orecchio anche a lei che non si vede meglio perché... Se lo mette sul lago dell'orecchio, insomma, non le devi dare. Se volete sì, ma anche no. Perché... No. 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 senso che il segnale non era buono quindi una serie di motivi e comunque si vede che è stato in manca tanto e la ci arriverà ci sono molto attratto l'attenzione con questo attrezzo infernale allora spieghiamo a Giancarlo la cosa c'è un software particolare che va a analizzare il tracciato elettrocardiografico va a prendere da questo le onde più alte, che è l'onda R calcola la sua frequenza, poi vi è un algoritmo, un programma, un software particolare che crea una sorta di finestra dentro la quale le persone in me dovrebbero stare se hanno un bilancio fra le due parti del sistema nervoso, quello che attiva e quello che distende quindi lui va a calcolarsi se uno rientra dentro questa finestra e fornisce un feedback questo qua non lo vede la persona, dovrebbe vederlo l'operatore qui c'è la respirazione che va in su e in giù, poi c'è una alta coerenza, media coerenza o bassa coerenza a seconda appunto di quello che viene fuori questo è importante perché è un dato oggettivo e soprattutto serve per educare le persone a respirare bene perché è importante per una serie di problemi diversi, non solo psichici, anche fisici o di salute generale vi sono all'interno del software dei programmi appositi come quello che vedeva prima che aiutano in maniera molto semplice le persone a prendere un miglior controllo in questo caso un controllo non depressivo, non un controllo attivo ma un controllo di distensione semplice, immediato e soprattutto per esempio lavora nelle istituzioni questa è una cosa apparentemente banale che fornisce degli strumenti per poter valutare in itinere se qualcosa funziona qui vi sono degli operatori per esempio di comunità che già arrivano lì con delle diagnosi più o meno più o meno fatte accuratamente perché è chiaro che il corpo dipendente o la sostanza è comunque questo spesso e volentieri nella mia realtà ma quanto mi dicevano anche qua vi sono più istituzioni che fanno l'invio molto difficilmente vi è una cartella con dei dati clinici accurati sia di esami matochimici o test di personalità o esami addirittura psicofisiologici non come questo ma ancora più complessi si chiama MMPI2 perché è la seconda grossa lezione è un test che fornisce uno spettro psicopatologico praticamente ha una serie di scale cliniche poi ha un'altra serie di valutazione perché ci danno delle descrizioni sulle capacità per esempio del singolo nel caso della persona dipendente da sostanze di cronicità o meno del disturbo le scale cliniche sono quelle delle patologie psichiatriche quindi si va da ipocondria, depressione, isteria ma l'avete visto ieri quando vi ho fatto vedere le sindrome dell'ovaio policistico ve lo ricordate che c'era la scala mascolonità-femminilità era quello lì la MMPI complimenti glielo dica guardi c'è il proprio Vene da Parma che ha fatto tanto di cappello perché è una cosa da follia devono istruire una possibilità per cui hanno necessità di solitare questo testo non hanno il tempo non hanno l'ultima città che non farlo glielo danno farlo a casa domani i posti non sono un po' in Italia complimenti vi faccio a me ai tuoi di complimenti alla rovescia una cosa da uto questa è una procedura che ha veramente è di questo tipo perché non cioè è come se lei o meglio lei è il mio medico io sono il suo ascolipendente lei mi dice guarda prendi questo questa provetta vai a casa poi domani mi porti l'urina per vedere se c'hai o no il cannabinoio e lo piace qui dentro questa è una cosa c'è capito ci vuole un 5 lauree e 3 specializzazioni per capire una cosa del genere no? cioè non cioè specialmente un test psicologico ha senso se io prima ho un rapporto diretto con la persona non è un test anche altri tipi di test tipo un test motorio o d'altro tipo ma specialmente un test psicologico è indispensabile il rapporto poi alla fine di una bella chiacchierata quando io ho fatto un'anamnesi ho comunque capito chi è la persona alla fine dico guarda compilami questo se hai bisogno di aiuto sono qua se hai dei problemi o delle domande o qualcosa non capisce sono qua ma prima ti ci vuole un rapporto se lo diciamo appunto ho fatto l'esempio della provetta non vai a casa a fare la pipipa lo porti domani per vedere se c'hai il cannabinoio mi dispiace gli dica pubblicamente c'è il pruneti Carlo ma non c'è la possibilità che chi soffre di questa dipendenza possa compilare una scheda di valutazione per i medici non c'è no? non c'è? una scheda di valutazione no? non c'è la presidenza degli utenti seguire seguire la pallina da qui deve iniziare la ispirazione con il naso e farla durare però lenta lenta fino a qua da qui inizia l'ispirazione con la bocca però deve farla durare fino a qua quindi bella e lunga soprattutto l'ispirazione deve essere lunga lunga seguendo questo messaggio mia nonna Emilia diceva una cosa saggia c'è un solo modo di fare le cose vera piuttosto che fare una cosa male meglio non farla perché capisci quel dato ammesso che la compili il paziente stesso non lo faccia compilare all'ozio compilare all'ozio al cugino al fratello questo capisci che dati clinici buttate via se ti vuoi consolare appena arrivato a Parma in neuro-riabilitazione non avendoci allora lo psicologo il neurologo faceva compilare i test neuro-psicologici quindi quelli che evidenziano funzioni o deficit cognitivi piccoli non batterie di test complesse ma dei test li faceva compilare a logopedisti quindi faceva fare queste prove che ovviamente compilavano i test ma sapevano un accidente poi come elaborare tutte le risposte sul piano clinico quindi tu trovavi delle cartelle cliniche che pesavano 8 etti pieni di queste cose che nessuno apriva mai e mi è venuto in mente proprio dall'esempio che hai fatto tu impiamo le cartelle impiamo gli armadi e di nuovo però la focalizzazione dovrebbe essere sull'utente finale che beneficio ne trai di 8 etti di carta messa dentro una cartella il malato neurologico che ci ha avuto un trauma cranico che ha avuto un ictus o quello che ti pare riabilitazione o una persona che entra in comunità quando sono obbligati ci sono altri esempi se vogliamo però è veramente antietico antimorale tutto questo non ha capito dicevi prima degli esami del sangue che non si fanno si possono anche non fare si può anche non fare niente però appunto far finta di aver cura degli altri e invece prendersi prendere in giro è veramente molto molto triste non c'è altra osservazione da fare secondo me è un peccato noi operatori delle comunità come se diciamo illustrato una realtà per noi in palazzina che siamo lontani tanti anni dalla si è cercato in quei anni di recuperare recuperare però ma voi come comunità non potete fare niente per rinunciare non ci lavorare noi noi non abbiamo il coltello della macchina ma forse anche voi sono delle perché non avrà mai la ragione per baglie ci sono questi sogni molto meglio basta una pallina non è la pallina è lei fa qualche sport lei gioca a tennis fa calcetto faccio vedere la differenza guardi la differenza questo era con l'altro che però non prendeva bene questo è quello libero e questo invece con la pallina 99 90 e passa per cento questo si vede come lei si ha facilitato che ne basta poco per entrare nel questo registratore complesso che ti dà un messaggio positivo tutti tutti esatto e bravo l'assessore Giancarlo allora c'era una proposta di fare 5 minuti di sosta da parte se vi va adesso avvocato ci sono sempre una sigaretta ma di cammello se non faccio una proposta va bene grazie a tutti Grazie a tutti.